Il nuovo battello pneumatico dei Carabinieri a quasi due mesi dalla sua istituzione scoglitta ha consentito in questo periodo di ottenere risultati importanti per il ripristino intanto della disciplina in mare in materia di sicurezza ma anche per tutelari bagnanti e diportisti in difficoltà. L'ultimo fine settimana di attività del battello infatti è stato incentrato essenzialmente sul contrasto alle violazioni del codice della navigazione che mettono spesso in pericolo i bagnanti. Per quanto riguarda proprio il bilancio di questa attività sono state elevate sanzioni per 172 euro ciascuno nei confronti di due vittoriesi sorpresi a bordo di un acquascooter a navigare sotto costa sono stati sequestrati cinque fucili subacque di pesca in zona vietata con conseguente sanzione di 200 euro a testa nei confronti di quattro catanesi e un vittoriese mentre in località fiume di Rillo territorio di Acate è stata rinvenuta una rete da pesca tipo giapponese lunga 50 metri a galla a pochi metri dai bagnanti e per cui è stata immediatamente sequestrata. Prosegue pertanto anche via mare la serie di servizi di rafforzamento del controllo del territorio disposti dal prefetto annunziato Vardè, servizi che sono stati emessi a punto nel corso degli ultimi comitati per l'ordine della sicurezza pubblica con l'obiettivo principale ovviamente di monitorare costantemente il territorio provinciale.